Ciao a tutti ragazzi Io sono Alfred Prattimenti in FIFA Italia E oggi sono qui a portarvi la player review di Atembenarfa versione TIF Versione TIF ricevuta appunto da questo giocatore per la sua tripletta in campionato E che arriva qui sul canale dopo poche settimane dalla sua versione TIF recensita Se ricordate sempre da me Quindi come potete capire questa non sarà una review tradizionale Ma sarà più che altro un confronto con la sua versione precedente Andiamo però a vedere più nel dettaglio come è cambiato Prima sulla carta e poi sulle statistiche in game questo giocatore Partendo dai valori appunto sulla carta Non ci sono stati grandi upgrade Più che altro i valori sono stati aumentati di più 2, di più 1 Abbiamo infatti un più 1 in velocità Uno in dribbling Più 2 in fisico Più 2 in tiro e più 2 in passaggio Devo dire che però gli upgrade si sentono eccome Perché la carta è molto più forte di quella di prima Ma diciamo che le caratteristiche generali sono simili È un giocatore molto simile alla sua versione precedente Però c'è qualcosa che cambia in positivo e qualcosa che cambia in negativo Partendo dalle cose positive che sono tante Abbiamo sicuramente la velocità che è unita al dribbling Come era stato appunto per la carta 83 Fa di lui un funambolo Un funambolo che è in grado di partire in velocità e sovrare praticamente chiunque E allo stesso tempo di Se non riesce a appunto superare tutti col dribbling Allungarsi la palla in velocità E dare 1-2 metri a praticamente tutti Nonostante appunto il valore sia solamente di 83 Secondo me dimostra molto ma molto di più E ha quell'agilità e quel controllo palla Rispettivamente di 89 e di 91 Che gli permettono di avere un cambio di passo tale Che anche semplicemente muovendosi con la levetta Riesce a prendere velocità e a scattare Per quanto riguarda invece il tiro abbiamo un nuovo miglioramento rispetto alla sua carta precedente Il più 2 di overall già citato E la caratteristica sono un 80 di posizionamento Un 85 di finalizzazione Un 92 di potenza tiro E un 90 di long shot Ora per quanto riguarda il posizionamento È sicuramente qualcosa che non mi è piaciuto rispetto alla versione precedente In quanto mentre quella stava sempre dove doveva stare e faceva inserimenti ottimi Questa ahimè non lo fa È una carta che si È un giocatore che sta sempre un po' più dietro Quindi diciamo se lo mettete come falso 9 come l'ho fatto io Andrà a fare praticamente il trequartista Ma non essendoci attaccanti ciò non è praticamente buono E non si inserisce quasi mai E dovete dargli palla e praticamente scartare tutti Cosa che comunque sa fare quindi appunto non è per niente un problema Per quanto riguarda invece il tiro in generale è migliorato secondo me È migliorato di gran lunga E riesce a segnare ottimamente sia di potenza che a giro E se prima sbagliava qualche tiro ora non sbaglia praticamente mai Chiuderei con due confronti sul fisico e sul passaggio Partiamo appunto dal fisico Il cui valore come ho detto è aumentato di 2 Troviamo qui un valore che mi ha stupito ovvero la forza fisica La forza fisica che fa proprio da statistica chiave Per il cambiamento di Ben Arfa tra la versione 83 e quella 84 Diciamo che nel caso dovesse trovarvi contro avversari difficili da superare nel dribbling Nonostante Ben Arfa sia un funabolo appunto Questa caratteristica della forza fisica è proprio la chiave che lo rende perfetto Lo rende perfetto perché fa in modo da appunto non farlo cadere alle spallate Di farlo lottare anche perché ha un 73 degressività che secondo me sembra qualcosa in più E quindi come ho detto è assolutamente un pro perché non cade mai e lotta come un leone Per quanto riguarda invece il passaggio non ci sono veri e propri cambiamenti Se non sull'effetto che è di 88 e secondo me è molto molto migliorato come ho già detto nella sezione del tiro Perché non sbaglia praticamente mai E un ultimo appunto lo farei sulle punizioni Il cui valore è di 81 ma secondo me sembra 90 Come vedete ne ho segnata una fantastica E quelle da più lontano le ho mancate proprio per pochissimo perché il portiere ha fatto dei miracoli Ultimo pro le 5 stelle skill ultimo contro il piede debole Piede debole che a me si sente tanto ma che come poi vedrete nella votazione non andrà a influire In quanto come state vedendo probabilmente adesso Benarfa riceve comunque un 10 in quanto questo valore non va a influire così tanto nonostante lo faccia Perché con la sua agilità e con il suo controllo palla si può benissimo girare in qualsiasi posizione sul sinistro e tirare Quindi comunque andiamo a riprocare pro e contro del giocatore 3 pro inserito velocità, dribbling, tiro, forza fisica e 5 stelle skill Mentre 3 contro solamente questo piede debole Come ho detto il voto finale che gli do è un 10 Un 10 che comunque è qualcosa di provvisore perché arriverà una sua versione toz E sicuramente li capiremo e vedremo veramente quanto questo giocatore è forte In ogni caso il video è finito, spero vi sia piaciuto Qui era Alfred, alla prossima Ciao a tutti